Well ragazzi io sono Luca Albrezzi del video di questo nuovo video di Fortnite signori Allora ci siamo abbiamo sbloccato il pass battaglia della season 8 ma in che modo si può sbloccare questo pass battaglia Allora molti di voi ancora sono o non sanno che si può sbloccare il pass battaglia della season 8 gratuitamente completando queste sfide che adesso andremo a vedere Vi ricordo che oggi sia sul canale sia nei giorni precedenti ci sono delle guide sulle missioni un pochino più difficili di questo sfide a tempo straordinario Vi ricordo che per ottenere la ricompensa cioè il pass battaglia della season 8 basta completare 13 sfide qualsiasi per ottenere appunto l'oggetto ricompensa Cosa succede? Noi ne abbiamo fatte in teoria 13 sfide però qua ne segna 16 16 perché ci segna anche queste altre 3 sfide che sono sbloccabili solamente col pass battaglia vecchio, chi c'è il pass battaglia della season 7 Ok? Però il pass battaglia della season 8 può essere sbloccato da tutti indipendentemente se avete acquistato pass battaglia precedentemente o meno Gli unici che hanno il vantaggio di avere queste 3 skin ovvero lo yeti che adesso vi andrò a fare vedere Quest'altra skin è un'altra skin che adesso vedemo Ce l'hanno questa opportunità solo chi ha acquistato il pass battaglia della season 7 Però queste altre missioni si possono fare tranquillamente senza avere pass battaglia ok? Per essere sicuri di aver fatto tutte e 13 le sfide Dove dovrebbe darvi completa le sfide a tempo straordinario gratuito per ottenere il pass battaglia della stagione 8 Dovrebbe darvelo con diciamo la spuntina in verde Ed in ogni caso ci sarà una notifica non appena avete completato le 13 sfide Adesso vi metto in sua impressione l'immagine che vi esce di quando avete sbloccato il pass battaglia della season 8 E ovviamente lo riceverete quando ci sarà l'aggiornamento Quindi l'unica cosa da fare è attendere ovvero sbloccare queste 13 sfide Avete la guida sul canale vi lascio anche il link in descrizione dell'ultima sfida Questa qui di cercare forzieri o scritto di munizioni su una pista da gara o in discoteca L'avete in descrizione Quindi sbrigatevi ragazzi abbastanza velocemente Muovetevi a fare queste sfide perché scadono tra poco Così da ottenere appunto un pass battaglia della season 8 gratis E finalmente la Epic ha regalato qualcosa di veramente utile Staremo a vedere ovviamente se il pass battaglia è buono o meno Perché sappiamo tutti che quando regala cose vuol dire che sono cose di cacca Però speriamo faccia le cose per bene questa volta Quindi mi raccomando ragazzi affrettatevi e appunto Completa le sfide a tempo straordinario e assicuratevi che questa spuntina sia in verde Se non vi esce la notifica che avete sbloccato come state vedendo nell'immagine Se non vi esce questa notifica dovete completare altre sfide ragazzi Queste qua non c'entrano perché è il pass battaglia ok Non c'entrano queste tre altrimenti ve le conta pure Io ne ho fatte 13 ma me ne conta 16 perché abbiamo fatto queste altre due e altre sfide Si sbloccherà quindi uno stile modificabile di questa skin che ancora devo sbloccare Ok questo solo perché è il pass battaglia della season 7 Poi abbiamo l'abominevole uomo brutto delle nevi Quindi questa è quella normale Questa è quella modificabile Ok trog si chiama E ci sta quest'ultimo stile modificabile che si chiama polvere ragazzi Che c'è il pass battaglia vecchio può sbloccare queste tre skin modificabile stili E tutti quelli che competeranno le 13 missioni nel tempo stabilito 13 ne abbassano 13 e arriva la notifica Sbloccherete il pass battaglia della season 8 Non appena ovviamente lo aggiungeranno Quindi lo riceverete in modo totalmente gratuito Spero di avervi fatto capire tutto per questa volta Sono stato costretto a fare un altro video perché me l'avete chiesto in tanti Spiega per bene quello che succede il pass battaglia Bla 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 Spero che adesso sia tutto chiaro Vi ricordo che la nuova season si sbloccherà all'incirca tra 5 giorni Ma lo vedremo ovviamente nei prossimi giorni Avremo notizie più dettagliate All'incirca 5 giorni ma qualcosina in più secondo me ci metteranno per farla uscire Quindi mi raccomando ragazzi se questo video vi è stato utile Iscrivete al canale e lasciate un bel pollicione in su Attivate la campanellina E se volete supportatemi come creatore nel negozio oggetti JKR-Ukalabres E fate ascetta Ascetta Grazie mille a tutti Ci vediamo al prossimo appuntamento Ciao belli Grazie mille a tutti